La commissione straordinaria che guida il comune di Rosarno è al lavoro da un mese nel grosso centro del Regino. Nelle parole del commissario, il prefetto Antonio Repucci, l'invito a stare vicino all'ente in questo momento di difficoltà. Certamente in un mese abbiamo notato, praticamente ci siamo confrontati già con associazioni e con privati cittadini. C'è in alcuni la voglia, ecco, la voglia di impegnarsi, ecco, di mettersi in discussione per migliorare lo stato delle cose. Abbiamo incontrato già qualche parroco, le istituzioni, abbiamo incontrato tutte le forze di polizia, carabinieri, finanza e polizia, ma ci dicono che ci sono tante associazioni che possono, diciamo, affiancarsi più efficacemente al comune in questo ambizioso traguardo, diciamo. Ecco, migliorare l'esistente, impegnarsi perché i cittadini capiscono che bisogna poi liberarsi di questa piovra tentacolare, questo, quello che è un vero cancro, una vera e propria patologia di questi territori, la criminalità organizzata, che sicuramente condiziona, strangola l'economia, condiziona i limiti di diritti civili, politici, elettorali dei cittadini. Tra i maggiori problemi del comune la partita della tassazione locale con riferimento al mancato pagamento dei tributi da anni, fra tutti, rifiuti ed acqua. Noi dobbiamo lavorare perché il cittadino capisca che non è che non pagando puoi pretendere dei servizi all'altezza, è normale che poi ne risentano pesantemente i servizi, la quantità e la qualità dei servizi, quindi poi pagare tutti, pagare meno, insomma, è valido pure a Rosarno, quindi dobbiamo lavorare sul piano culturale, perché come sempre il problema è di cultura e di mentalità in tutte le realtà del meridione, far capire che ci sono le istituzioni e che bisogna, così, come diceva la parabola evangelica, dare a Cesare qualche di Cesare e a Dio qualche di Dio. Grazie.